Poco fa, chiacchierando con un mio caro amico, lui mi ha confidato che è un periodo per lui molto difficile perché è stato da poco lasciato dalla sua compagna e per di più, qualche giorno fa, è stato licenziato dall'azienda per la quale lavorava da oltre dieci anni. Magari fossero tutti questi i problemi della vita. Magari. Se domani venisse qualcuno a dirmi, guarda i problemi della vita saranno il fatto che lui è stato licenziato e che lui è stato lasciato dalla sua compagna, io ci metterei la firma. Cioè, non scherziamo su queste cose. Spero di non essere stato frainteso ma io credo che forse tutti noi dovremmo metterci una mano sulla coscienza. O una mano sulla coscienza dell'altro. Pensate prima di riflettere ragazzi, pensate.